La Calabria si farà in 8 per conquistare un seggio a Montecitorio e in 4 per non perdere il treno verso Palazzo Madama. Giovedì il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che determina e dispegne i collegi uninominali e plurinominali legati alla Rossatellum 2.0. Lo schema del decreto sarà inviato alle Camere per i pareri delle commissioni che dovranno pronunciarsi entro 15 giorni dalla trasmissione. Stella Polare per la strutturazione dei collegi sono le circoscrizioni individuate nel 1993 per il Senato dal Mattarellum. Erano 8 in Calabria, Castrovillari, Collegio numero 1, Coriliano numero 2, Cosenza numero 3, Catanzaro numero 4, Crotoni numero 5, Vibo Valencia numero 6, Gioia Tauro numero 7, Reggio Calabria numero 8. In ciascuno sarà eletto deputato il più votato dei candidati in corsa. Gli stessi 8 collegi sono aggregati per comporre due collegi plurinominali per i listini bloccati con 6 candidati a testa. Anche per Palazzo Madama si riparte dalla legge elettorale firmata dall'attuale Presidente della Repubblica. In questo caso i quattro collegi uninominali previsti nascono dall'accoppiamento dei raggruppamenti disegnati per la Camera. Il Calabria 1 sarà composto dall'Unione dei collegi di Coriliano e Crotoni lungo la costa Ionica. Il Calabria 2 dai collegi di Castrovilla e Cosenza. Il Calabria 3 da Catanzaro e Vibo Valencia. Il Calabria 4 da Reggio Calabria e Gioia Tauro. Anche in questo caso c'è alcuna circosizione. Eleggerà un senatore a testa uno solo in tutta la regione il collegio plurinominale cui sono affidati 6 seggi assegnati con criterio proporzionale e listino bloccato in totale. Porteremo al Palazzo Madama 10 senatori della Repubblica, 4 vincenti negli uninominali e 6 dall'unico collegio plurinominale.